Salve amici del Centrometro Italiano, alta pressione e tempo stabile ma con locali temporali sui rilievi. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 7 luglio. Nubi sparsi al mattino a nord ovest con locali piogge sulle Alpi occidentali, asciutto sul resto della penisola con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio ancora instabilità sulle Alpi con piogge temporali sparsi, stabili altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata è notata locali fenomeni in sconfinamento dalle Alpi verso le alte pianure adiacenti specie di Piemonte e Lombardia, asciutto sulle altre regioni con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.